Abbracciamo l'ospedale con questo slogan medici, infermieri e personale vario dell'Umberto I intendono dare un segnale alla collettività in difesa del nosocomio di Viale San Francesco Ieri sera nella sala Colella c'è stato il secondo incontro del coordinamento di sanitari nato spontaneamente dopo l'aggressione subita da una dottoressa del pronto soccorso Manifestazione a parte, il personale dell'ospedale Nocerino chiede sicurezza e maggiore vigilanza partendo da cose semplici innanzitutto il rispetto dell'orario di visita. Per fare ciò bisogna però uniformare gli ingressi bisogna far sì che gli orari di visita siano omogenei in questo modo a fine giornata le porte si chiuderebbero e si accederebbe solo con beige Per cominciare basterebbe anche solo un più puntuale giro delle guardie giurate Non è possibile, ha detto una dottoressa durante l'assemblea l'assembramento all'esterno della rianimazione oppure che se per un'emergenza ti chiamano al quinto piano alle tre di notte rischi di imbatterti in gruppi di persone non identificate Rendere l'ospedale a porte chiuse dopo l'orario di uscita degli infermieri dell'ultimo turno il turno serale praticamente è quello appunto di chiudere l'ospedale eventualmente addirittura di proporremo di poter entrare e uscire solo noi dipendenti ma utilizzando il beige per quanto riguarda gli interventi tecnici occorrono investimenti se ne dovrà fare carico la direzione generale anche se al momento nulla sembra muoversi dai piani alti tutte le iniziative dal sit-in al decalogo della sicurezza saranno portate avanti in sinergia con il personale del martiri del Villa Malta intanto il sindacalista dell'UGL Giovanni Rispoli membro del comitato regionale della sanità ha ricondotto il nervosismo che spesso si respira in corsia anche alla carenza di personale in regione Campania abbiamo un problema di fondo che trascende addirittura la responsabilità dei direttori generali delle singole altre noi abbiamo un vuoto pauroso di personale il presidente Caldoro certifica in almeno 10.000 è il grosso ovviamente la quasi totalità parliamo del ruolo sanitario quindi dirigenza e area del comparto di carenze sul territorio